Perché i ferraresi dovrebbero andare a vedere la mostra dedicata a Carlo Bononi? Beh, io come ferrarese sono molto legato al periodo rinascimentale, al periodo medievale e il periodo invece del 600 l'ho sempre un po' trascurato. Andando in bicicletta alzo gli occhi di fronte al castello, al Palazzo dei Diamanti o a Via delle Volte, ma le chiese barocche magari ne sono meno colpito, anche forse per un'ignoranza, ecco, da parte mia su questo secolo. Quindi credo che la mostra di Carlo Bononi sia una mostra importante da visitare per conoscere anche questo periodo scotorico, il periodo che segue la devoluzione, quindi l'arrivo del papato e l'allontanamento della corte estense e quindi la fine del rinascimento e l'inizio del 600. Il grande terremoto che c'è stato nel 1570 che ha portato alla distruzione di molte chiese e quindi anche la commissione a nuovi pittori con un nuovo gusto, che era il gusto pre-barocco, diciamo, a dipingere a Ferrara e poi le indicazioni del Concilio di Trento che dava delle indicazioni molto precise su come dovevano essere realizzati i dipinti a carattere religioso. Dovevano essere chiari per tutti, dovevano raccontare la verità, non mentirla, ma mostrarla, quindi anche le piaghe dei santi, il sangue e poi dovevano commuovere, dovevano muovere l'animo del visitatore ad un cambiamento, ad un miglioramento.